Ciao a tutti e benvenuti nel secondo video dedicato alla Santoro. Qui ho un altro luogo della Santoro Gorgeous Balocco. Nel primo luogo ho trovato il portamonete e adesso spero di trovare il portachiavi che ho visto in giro che anche quello è molto molto verino. La carta è molto bella, è rosa con la bimba ballerina e anche davanti abbiamo la bimba ballerina. Questo qua è 240 grammi. C'è il nastrino, è il nastrino super chiuto. Ma è impossibile. Facciamo con la forza. È assurdo. Mamma mia. Ecco, è super sigillato. Ecco qua. Ecco qua. L'abbiamo ricavato di una stritta. Ah, è rotto. Va bene, non fa niente. È il buchino. Si è aperto. Eccolo qua. Ecco, è il portachiavi di cui parlavo. Meno male. Così sono riuscita a prendere sia il portamonete che il portachiavi. Bellissimo. Eccolo qua. Ecco, è di spoffa morbido morbido. Qui abbiamo la bimba con la girandola. E dietro la girandola. Molto, molto bello. Sono contenta così ho trovato due bellissime sorprese. E questo è l'uovo Santoro Gordis Balocco. Io vi saluto. Un bacione alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.